Erano state accolte parzialmente lo scorso dicembre da parte del riesame le richieste della famiglia Moretti finita al centro dell'inchiesta sull'autoriciclaggio della Guardia di Finanza di Arezzo. Era stato infatti riformato parzialmente il decreto di sequestro preventivo firmato dal GIP per Giorgio Ponticelli e oggi a 30 giorni dalla decisione sono state rese note le motivazioni. Il tribunale del riesame aveva decurtato circa 6 milioni degli oltre 25 sequestrati precedentemente. Nel dettaglio erano stati defalcati 3 milioni e 900 mila euro degli oltre 4 che erano stati sequestrati ad Andrea Moretti, 2 milioni e 300 mila euro per il padre ed infine 173 mila euro per l'altro figlio Alberto Moretti. Beni che comunque non torneranno nelle disponibilità della famiglia. Le cifre defalcate dal riesame saranno infatti confiscate in quanto ritenute profitto di altri reati sempre di natura finanziaria per il quale si è già arrivati a sentenza di condanna. Nell'istanza inoltre venne messo in luce il meccanismo con il quale si muoveva il gruppo Moretti. Attraverso operazioni considerate opache dagli inquirenti di reinvestimento di capitali non tracciati e transitati su conti aperti in paesi esteri, i Moretti avevano dato vita ad una fitta rete di società che sarebbero risultate attattamente create e fatte galleggiare per anni con una tendenziale inattività. Ci sono poi le distrazioni di capitale, milioni di euro prelevati dai vari componenti della famiglia da società Bancomat, ovvero società prestate al bisogno personale di ciascuno degli indagati. Insomma un vorticoso ed ingiustificato giro di denaro transitato senza sossa da conti nazionali a conti esteri aperti ovviamente in paradisi fiscali e viceversa. Antonio e i due figli avevano inoltre trasferito la residenza all'estero risultando nulla tenenti per il fisco italiano ma continuando a tenere le redini degli interessi del gruppo in Italia e conservando un tenore di vita elevatissimo. A rispondere di atto riciclaggio saranno infatti solamente Antonio e due figli mentre per gli altri il capo di imputazione è stato derubricato a riciclaggio.